Buongiorno a tutti, sono sempre Victor Lasdontotto Allora, per iniziare con il video di oggi vi ricordo che in descrizione vi trovate il link che vi rimanda al mio shop ufficiale dove trovate il mio merchandise con le magliette, quelle con il logo normale c'è la nuova maglietta in limited edition con pezzi limitati con il logo in stile arancia meccanica che è veramente una gran figata quindi se vi interessa sapete cosa fare ma ora, bando alle cianci, iniziamo subito con il video di oggi che mi avete chiesto in tanti Allora, in effetti siete stati in tantissimi a scrivermi nei messaggi privati sui social o nei commenti sotto i video di Youtube la domandona, ovvero Victor parlerai della serie di Le Pen? La risposta è sì, è uscita l'8 di gennaio quindi è online su Netflix da qualche giorno e in tanti se la sono guardata in poche ore perché di fatto è stata caricata sulla piattaforma la prima parte che consta di 5 episodi della durata di circa 3 quarti d'ora l'uno quindi si guarda abbastanza in fretta e oggi voglio parlare proprio di questo quindi sappiate che farò spoiler sulla serie quindi se non avete visto i 5 episodi che compongono la prima parte vi sconsiglio vivamente di proseguire la visione di questo video e mi raccomando ascoltate quando parlo perché qualcuno si è lamentato del fatto che quando parlo di serie io faccio spoiler senza avvisare non è vero, lo dico sempre certo che se uno apre un video e salta subito al minuto 10 beh lì sono anche un po' a fare i suoi penso questa serie ha generato un'affascinante polemica tempo fa perché in tanti si lamentavano del fatto che fosse stata messa in atto l'ennesima manovra i politically correct perché scegliere Omar Sy perché avere un Lupin nero Lupin è giapponese e soprattutto dove sono Gaemon, Jigen e Fujiko ecco queste persone mi fanno tanto sorridere perché ci vuole un certo livello di impegno per prendere una cantonata del genere non si tratta del Lupin creato da Monkey Punch non è il Lupin del manga non è il Lupin dell'anime è, almeno si pensava fosse, il Lupin creato da Maurice Leblanc scrittore francese era un personaggio che andava forte nei primi anni del 900 da cui poi è stata tratta una popolare serie se non sbaglio degli anni 60 che ha reso caratteristico il personaggio perché si vestiva con questo cilindro il monocolo e il mantello Arsène Lupin Arsenio Lupin è il ladro gentiluomo un personaggio molto conosciuto forse non molto alle nuove generazioni ma ad esempio se io dico papà a mio padre sai chi è Arsenio Lupin lui mi sa dire perfettamente chi sia è un personaggio iconico forse non quanto lo è stato il Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle ma anche il personaggio di Leblanc ha avuto il suo seguito ce l'ha tuttora in Francia è un personaggio importantissimo fa parte della loro tradizione culturale e letteraria l'ipotesi che si era fatta quando la serie era stata annunciata era che questa fosse una serie che rielaborava il personaggio di Arsenio Lupin molti si erano lamentati del fatto che non aveva senso cambiare l'etnia del personaggio e ho detto ma se la cosa ha un senso a me non dà fastidio e udite udite il senso ce l'aveva il political incorrect non c'entra nulla c'entra il fatto che Omar Sy in Francia ma non solo è un attore molto amato e volevano il volto famoso per questo personaggio e no non è una rielaborazione alla Sherlock di Getty Savo e Moffat perché molto semplicemente il protagonista non è Arsenio Lupin ma è Hassan Hassan Diop questo ragazzo appassionato di Lupin un ragazzo che ha una storia familiare molto complessa e che ha trovato il Lupin un personaggio in cui identificarsi per diventare un ladro astuto quindi si parla di un'eredità spirituale il fatto che il personaggio si chiami come nome di battesimo Hassan è metaforico viene fatto notare anche nell'ultimo episodio perché in francese Arsenio diventa Arsane e quindi Hassan e Arsane hanno una certa assonanza quindi è come se lui si chiamasse Hassan perché era destinato a diventare l'erede di questo personaggio fittizio mi piace l'idea mi piace e quindi non vedo perché lamentarsi per il fatto che abbiano scelto un protagonista nero ripeto lo hanno scelto perché è Omar sì non lo hanno scelto per il colore della sua pelle è parecchio evidente questo il personaggio è cucito addosso a lui peraltro a me Omar si piace perché ha una faccia molto simpatica ma sa anche essere serio e in alcuni momenti anche minaccioso è perfetto per questo ruolo e nel complesso ho trovato la serie molto interessante me la sono abbastanza bevuta avevo poco tempo quindi l'ho vista in un paio di giorni non me la sono scoppiata subito anche perché sapete che a me binge watching non piace particolarmente è comodo quando ho poco tempo magari non ho da dedicare due ore al giorno per quella singola serie perché devo guardare altre e allora magari dico dai devo fare la recensione il prima possibile me le guardo mi dedico 3-4 ore un giorno solo se riesco a trovare un modo per incastrare il tutto e me la guardo però non amo il binge watching questa me la sono vista in poco tempo però alla fine sono solo 5 episodi quindi era bingeabile anche facilmente ma ho preferito farla durare leggermente di più anche perché ripeto avevo meno tempo in questi ultimi due giorni ma l'ho trovato lo stesso per guardarla e mi è piaciuta nonostante abbia delle evidenti ingenuità allora il montaggio innanzitutto ha dei problemi ci sono degli scavalcamenti di campo quindi è un problema anche della regia che non sono indifferenti quindi logisticamente a livello di montaggio si poteva fare di più a livello narrativo è una serie molto di base e anche in questo senso avrei evitato delle sviste cioè non si tratta di sviste del tipo buchi di trama si tratta proprio di cose che anche dopo aver attivato una certa sospensione di incredulità che fosse adatta a questo tipo di prodotto erano un po' troppo ok ci sono proprio delle cose che mi fanno pensare beh questa è un po' una cacata però vado oltre queste cosucce perché non inficiano la godibilità di quello che si vede sullo schermo e la storia non è male devo dire che la storia non è male ci hanno raccontato ancora poco secondo me hanno appena scalfito la superficie peraltro non volevo non pensavo che finisse con quel tipo di cliffhanger perché adesso devo aspettare per mesi come tutti la parte 2 e effettivamente il cliffhanger finale è abbastanza grosso con il figlio di Hassan che viene rapito dallo scagnozzo di Pellegrini quindi insomma sono molto curioso di sapere cosa succederà peraltro la puntata l'ultima puntata si chiude con il poliziotto l'unico che ha capito che c'è un collegamento tra Hassan e Arsenio Lupin che proprio mentre Hassan capisce che il figlio è stato rapito arriva lo guarda e dice Lupin è bella come cosa quindi anche perché sancisce il fatto che di fatto Hassan è Lupin cioè è un Lupin spirituale è il nostro mondo in cui Arsenio Lupin è un personaggio di fantascienza ma adesso grazie a Hassan esiste un Lupin nella vita reale quindi in questo universo narrativo che però è il nostro cioè è quello contemporaneo quindi è una serie che mi ha mi è piaciuta cioè ti tiene incollato allo schermo ha la giusta dose di misteri ha la giusta dose di approfondimento dei personaggi ci sono anche dei flashback interessanti ad esempio a me piace molto la storia che lega Hassan a Claire che è stata la sua compagna però lui era Fedifrago perché la tradiva e io ti devo dire la verità siccome per tutte le puntate ci hanno posto un Lupin che sembra essere un gentiluomo una brava persona e tutto quanto non mi sarei aspettato che fosse saltato fuori che lui tradiva lei che non la trattava poi molto bene soprattutto una cosa che un po' mi ha deluso però rende in realtà più interessante il personaggio non è che mi ha deluso a livello narrativo mi ha deluso nei confronti di Hassan lo facevo un pochino più un ladro con più fibra morale ok quindi è quello che volevano probabilmente fare gli sceneggiatori volevano portarti a pensare ma come il fatto che quando ci mostrano cosa faceva prima di mettersi sulle tracce di coloro che hanno incastrato suo padre e adesso di questo parleremo fa vedere che lui era un truffatore brillante nel mettere in atto i suoi piani ma pur sempre un volgare truffatore io mi aspettavo che fosse uno che rubava solo oggetti preziosi di un certo tipo opere d'arte e quant'altro invece lo vediamo nell'ultima puntata in un flashback lì a truffare questa signora che manco quelli che con la scusa della lettura del gas introduco in casa ti fottono i gioielli ci sono rimasto male ci sono rimasto male perché mi è stato cavolo ma allora non è il ladro romantico che pensavo ma credo che fosse proprio lo scopo degli sceneggiatori volevano farti cadere il personaggio te l'hanno presentato come un personaggio affascinante interessante che sembra essere sempre la parte della giustizia pur con un'idea della giustizia a parte sua c'è tipo una cosa una cosa del tipo rubo solo ciò che è necessario rubo solo e invece poi vedi che è un volgare truffatore ed è anche fedifrago quindi capito è un personaggio estremamente tridimensionale non è perfetto mi piacciono anche le puntate che si concludono con la spiegazione del piano alla Ocean's Eleven c'è stata una puntata di qualche mese fa di Rick e Morty in cui sfottevano gli heist movie con il flashback con il piano mostrato tutto figo con il montaggio ecco sono tecniche abusate nelle serie nei film ma io quella cosa in particolare l'adoro io adoro quando mi viene spiegato tutto col montaggio ma non perché mi piacciono gli spiegoni non mi piacciono gli spiegoni ma quel tipo di spiegazione a me fa impazzire quando torna tutto nel pezzo del puzzle sicuramente una struttura abbastanza vecchiotta ma stiamo comunque parlando di una serie che si ispira diciamo al personaggio creato da Leblanc e Leblanc era così alla fine del racconto ti ti spiegava come Lupin aveva fatto le cose straordinarie che non riuscivi a spiegarti quindi non è che abbia la struttura vecchia è una serie comunque molto semplice ci sono delle ingenuità del tipo quando lui va in televisione per sputtanare Pellegrini perché è in possesso di questa videocassetta che mostra che lui era coinvolto nell'attentato all'ambasciata francese a Kuala Lumpur ecco due cose cioè quella scena ha due problemi enormi primo scusami ma per quale motivo tu sei andato in televisione dove possono manipolare i nastri cosa che alla fine è successa avevi la videocassetta ma perché non l'hai messa su twitter come hai fatto per dare l'ultimatum a Pellegrini nel giro di pochi minuti lo dice la figlia di Pellegrini stesso il tweet che lo incriminava aveva avuto 2000 condivisioni lui a un certo punto dice alla a Fabienne la giornalista che l'ha stata distrutta da Pellegrini che lo aiuta a prendere le proprie compromettenti lui dice proprio quel programma ha due milioni di ascolti anche se non è vero il giornalismo ok ma se tu in pochi minuti hai totalizzato 2000 tweet ma non sarebbe più virale raggiungerebbe sicuramente molte più persone una condivisione del video online cioè per quale motivo andare a portare il nastro e fartelo distruggere in televisione peraltro l'altro problema di quella parte di quella scena è che lui si trucca e quando va in televisione si è truccato come se fosse una persona sui 60 anni il problema è che se io prendessi se staccassi il mocio mi lega dal bastone me lo mettesse in testa e mi radessi i peli pubblici e me li mettesse in faccia avrei fatto un trucco più credibile di quello che si fa lui in quella scena cioè è palesissimo che è un trucco di scena fatto pure di merda per cui questa cosa mi ha fatto pensare sì ma perché cioè mi rende il tutto ridicolo quella scena lì è un po' ridicola ma soprattutto perché non ha senso il suo ragionamento no no meglio andare in televisione ma non è meglio andare in televisione è meglio metterlo sul web siamo nel 2020 la serie è ambientata ai giorni nostri ma cosa ti salta in mente di andare in televisione pur sapendo che pellegrini che vuoi distruggere ha in mano tutti ha in mano la polizia ha in mano la stampa vuoi che non abbia in mano anche la televisione cioè per uno che viene presentato fino a quel momento come un ladro geniale che ha sempre la soluzione a tutto mi sembra un'ingenuità incredibile e di cose come questa ce ne sono anche altre disseminate per la serie delle piccole ingenuità ad esempio lui sa che lo scagnozzo i pellegrini gli sta alle costole e che cosa fa dopo averlo seminato nella scena dopo va a casa a prendere moglie e figlio per fare un viaggetto e andare a festeggiare il compleanno di Maurice Leblanc ora a me va bene tutto posso capire tranquillamente che cosa volessero fare in quel momento però mettimi una scena di raccordo perché mettermi lui che scappa e poi subito dopo va da moglie e figlio è irresponsabile cioè lui è stato mostrato come più cauto nelle puntate precedenti mi sembra strano che uno sgamato come lui non si renda conto che potrebbe mettere in pericolo la famiglia è logico che questo cercherà di venire ancora a romperti i coglioni e infatti poi se lo trova sul treno e rapisce il figlio a un certo punto quindi rapiscono il figlio perché lui che è un ladro che calcola sempre tutto a millimetro che addirittura nella seconda puntata va in galera volontariamente per parlare con il tizio a cui era collegato suo padre poi riesce a uscire fingendosi morto nel sacco per cadaveri commetto un'ingenuità del genere non mi torna cioè io capisco l'ingenuità possono anche scappare ma proprio lì vanno a narrativo queste cose non mi fanno impazzire non mi hanno distrutto completamente l'idea che avevo della serie che comunque è una serie sicuramente carina da guardare però narrativamente mi cozzano parecchio non ho capito se volessero farci capire che Hassan è un po' arrogante quindi pensa sempre di avere la situazione sotto controllo anche quando non ce l'ha però il problema è che mi sembra insensato che lui si comporti in quel modo al via di quello adoro il fatto che ci sia questa trama molto orizzontale che si sviluppa di puntata in puntata legata a questa collana preziosissima che era stata rubata presumibilmente da suo padre quando lavorava come autista per Pellegrini questo facoltoso uomo potente colluso con la malavita che vende armi ma che nessuno sa essere una persona del genere quindi tutti rispettano il padre si impicca in galera dopo essere stato arrestato e aver firmato la confessione lui anni dopo inizia a indagare per davvero e scopre che in realtà il padre non aveva rubato la collana ma che è stato incastrato a Pellegrini la cui azienda all'epoca stava fallendo e quindi aveva incastrato il padre per poter per l'appunto intascare i soldi dell'assicurazione questa cosa mi piace molto quindi c'è tutto questo tentativo di lui di incastrare Pellegrini ok e aveva anche una storia con la figlia tradiva Claire prima che si lasciassero con la figlia di lui quindi c'è anche un legame sentimentale con quella famiglia la cosa però è questa ad esempio lui per l'appunto perché si mette a indagare così tardi sul padre proprio in quel momento proprio arrivato sulla quarantina decide di indagare questa cosa ha distrutto la vita non l'aveva mai indagato seriamente ha iniziato a indagare solo dopo il perché magari ce lo spiegheranno o semplicemente perché si non lo so però il punto è questo ci deve essere dell'altro nel senso che noi lo vediamo all'opera per questa cosa della collana eccetera ma poi quando lui è un ladro quando svolge la sua attività di ladro chiamiamola così per l'appunto è un ladro come tutti gli altri io speravo che me lo mettessero a rubare oggetti preziosi tipo dei musei la collana la ruba perché di fatto gli serve per far luce sul mistero la ruba quasi per vendetta però non è un suo abituale furto quello tutta la parte all'ouvro nella prima puntata è interessante quando scopriamo alla fine che lui non è veramente un inserviente come sembrava questa cosa mi è piaciuta l'ho trovata interessante perché noi fino alla fine non capiamo veramente chi è Hassan lo capiamo solo dopo ha una bella storia però ha questi problemini anche legistici che insomma comunque c'è il p***o che ha capito il collegamento con Le Pen che viene trattato come uno stronzo questa cosa mi dà fastidio mi dà fastidio quando nei film c'è il corpo di polizia con gli imbecilloni che non vanno oltre il loro naso l'unico che ha capito tutto ma siccome è considerato lo sfigato del distretto sei un coglione allora sono un coglione se ti dico questo furto del Louvre è ispirato a Le Pen magari il ladro si è ispirato a lui per davvero ma che cazzo dice hai letto troppi libri va bene d'accordo è il fissato di Arsène Le Pen è quello visto come un po' lo sfigatino del gruppo ok la prima volta dice vai a cagare poi vedi che il tizio si era chiamato si era dato come nome falso Paul Sernin e c'è l'anagramma Paul Sernin Arsène Le Pen già il colpo sembra preso da un libro di Le Pen il tizio si chiama Paul Sernin che è l'anagramma di Arsène Le Pen già se il mio collega mi dicesse così io direi non escludiamo nulla non dico che dobbiamo esserne convinti però il mondo è pieno di matti magari c'è uno che veramente fa il ladro brillante ispirandosi a Arsène Le Pen poi aveva un altro nome falso indagando e si era firmato Louis Perenna Louis Perenna altro anagramma di Arsène Le Pen ora quando vedi che i profili del volto combaciano e della stessa persona e vedi che i colpi che fa sono palesemente di ispirazione di Maurice Le Blanc e noti che ha i due nomi falsi che conosci che ha usato sono anagrammi di Arsène Le Pen sei anche un po' un poliziotto incapace se tu non prendi anche solo in considerazione che possa esserci un legame a me questa cosa fa girare i coglioni perché se avessero dato letto a quello lo avrebbero preso da mo e a me dà un po' fastidio quando una cosa non succede non perché sia giustificato la trama ma perché gli sceneggiatori hanno deciso che i poliziotti in questo caso sono degli idioti non danno letta all'unico che ha capito tutto è una cosa estremamente tipica è una cosa estremamente tipica forse troppo tipica quindi è una serie che ha luci e ombre da una parte nel suo complesso è godibile simpatica mette in scena una bella azione ha un bel approfondimento del personaggio mi piaciuto anche l'approfondimento di Dumont l'ispettore che aveva trattato male Hassan e voleva sbrigare subito il fatto perché di base aveva ceduto al ricatto di Pellegrini per ricattare il padre di Hassan però anche lì dopo che Hassan lo rapisce per cercare di avere informazioni e lo rilascia Dumont si comporta come un cretino cioè ho capito che tu vuoi fare l'ispettore il commissario duro e crudo è l'unica comanda eccetera ma si vede che sta insabbiando qualcosa è troppo teatrale ci manca solo che dica no basta non chiedetemi niente perché so troppo e non voglio dirvelo allora abbiamo fatto il paio cioè i poliziotti ancora più stupidi che nonostante questo sembri nascondere qualcosa non vogliono dire niente in più non credono neanche al collega che è lì che dice ragazzi ma non vi sembra strano tutto quello che sta succedendo perché a me sembra che abbiamo un ispettore che palesemente ha riconosciuto il tizio e denigra la cosa di Lupin con sguardo strano quell'altro che si firma a San Lupin eccetera e palesemente i suoi colpi sono ispirati a Arsenio Lupin scritto da Leblanc ma non è che mi date retta no nessuno gli da retta è uno sfigato è un coglione è uno strano va bene ok quello strano alla fine è l'unico che ha capito tutto fin dall'inizio cioè va bene tutto però però è vero anche che sono cose che potrebbero tranquillamente trovare in un romanzo di Leblanc quindi in realtà posso anche farle passare questa cosa qua del tizio che non viene creduto come una sorta di omaggio perché alla fine l'ispirazione è il Lupin di Leblanc può funzionare come no però ecco se non avesse avuto tutte queste ingenuità la serie sarebbe stata veramente grandiosa invece così è una serie godibile non la cosa più bella che abbia visto non la cosa più bella prodotta da Netflix ma sicuramente se volete avere lo svago di tre tre ore e mezza durante la visione se volete guardare avete cinque ore di tempo libero siete nel weekend siete lì che vorreste riposarvi volete guardarvi una serie carina lo bella benissimo tre quattro ore ve la guardate rimanete in birico per il cliffhanger e non vedete l'ora di guardare la parte due fine non è che una serie deve per forza essere un capolavoro ormai siamo in una società polarizzata una serie o un film o è bellissimo oppure no mi viene in mente la questione del Mandalorian ah non ti è piaciuto non capisci un cazzo ma deve per forza piacermi cioè come sapete The Mandalorian per me è una serie che non è male non mi piace con la struttura per me ha dei grossi problemi narrativi ha dei grossi problemi di gestione questa non la rende una brutta serie però no siccome The Mandalorian sta piacendo alla massa Victor Lasz 88 non ne può parlare male perché altrimenti non capisce un cazzo allo stesso tempo io so già che arriveranno quelli che non capisci niente la serie è bellissima no ragazzi questa serie non è bellissima Le Pen è una serie godibile è una serie carina perché ricordatevi che voi potete cambiare mentalità quanto volete ma il mondo non smetterà di avere cose che sono splendide orribili o magari godibili non si sente più quando un prodotto è atteso ah è carino mi è piaciuto si sente solo fa schifo puzza ho dovuto spruzzare l'aust perché sennò morivo oppure capolavoro fantastico perché l'autore ha voluto inserire queste cose che mi sto applicando sugli specchi per spiegarvelo ma vi assicuro che è così perché me l'ha detto lui al telefono l'altro giorno e che cazzo la via di mezzo scrivo mi è piaciuta la serie Le Pen è un capolavoro nei commenti oppure non capisci niente Vittor questa serie fa schifo questa serie è orribile non è orribile non è bellissima è una serie che ci sta perché ricordatevi che una cosa può anche starci non deve per forza essere pirotecnica si può stare ok registicamente non è immonda ma ha dei problemi sia di regia che di montaggio a livello tecnico problemi di regia e di montaggio ce li ha sono lì da vedere non lo dico io lo dice quello che si vede sullo schermo quando mettete play ci sono gli scalacamenti di campo che si notano tantissimo e quando li noti e ti disorientano vuol dire che lo scalacamento di campo diventa un errore non è necessariamente un errore è una rottura delle regole rompere una regola non significa star sbagliando quando si parla di grammatica cinematografica ci sono tanti film innovativi che rompono delle regole Hitchcock stesso usava ogni tanto i piani di sequenza oppure Hitchcock sperimentava tantissimo come un sacco di altri registi non significa rompere le regole perché se Hitchcock usa un piano di sequenza è perché vuole fare qualcosa vuole attirare l'attenzione su qualcosa se utilizza un piano di sequenza uno scalacamento di campo se utilizza uno scalacamento di campo non significa che Hitchcock stia sbagliando significa che lo ha usato per un motivo ha voluto rompere una regola se invece vedo un film di Michael Bay in cui si scalacca il campo ogni due secondi e non capisco da che parte sta girata l'azione lì non è più una rottura delle regole è un errore perché mi stai disorientando e non mi stai disorientando per dimostrare qualcosa mi stai disorientando perché semplicemente non sei capace a girare e allora lì è un altro discorso ok? in questo caso questi non sono scavalcanti di campo o un montaggio ricercato ma sono errori non è una cosa fantastica però poi per il resto la serie ha anche delle sequenze ben girate la scena verso la fine con tutti i ragazzini con il costume della Saint Lupin è angosciante la scena del treno non è girata male la scena in cui corrono e lui scappa sui tetti non è girata benissimo ad esempio no? cioè abbiamo un inquadratore lui che esce da qua e tu entra dentro da qua e dici ma che cazzo non va bene questa cosa qui cioè si rompe la continuità del montaggio però ce ne sono altre come quando spiegano come ha fatto il colpo sono interessanti con quel montaggio ipercinetico che secondo me è usato bene ha alti e bassi ma a me è piaciuta nel complesso non mi posso dire insoddisfatto anche perché forse non mi aspettavo niente di che ero curioso ma Omar Sy è bravissimo è in parte è un bravo interprete sa far ridere sa fare momenti drammatici è bravo gli altri personaggi non sono niente male secondo me ha delle storyline interessanti la storyline dei polizzotti quella di Dumont poi c'è quella della collana poi c'è la questione di Claire e Hassan ed è perché si sono separati ha delle storyline che si vanno ad amalgamare bene con tutto il contesto non si perde mai di vista la trama principale che è quella della collana quindi questo va benissimo va bene così si poteva far di meglio certo non c'è mai limite al meglio ma non c'è neanche mai limite al peggio questa serie non si pone sul meglio e sul peggio ma in mezzo ha dei problemi ha dei pregi nel complesso se io mescolo problemi e pregi ne viene fuori una crema che secondo me si può tranquillamente mangiare non sarà una crema gourmet che ti fa cracco ma può essere la crema della zia Luisa che la fa bene e mangiabile quindi va bene così questa serie è la crema di zia Luisa non la serviresti in un ristorante ma la mangi volentieri perché è a casa col panettone mette la spagna e te piace ok non è che devono essere tutti piatti gourmet i film ragazzi usando una metafora sul cibo per cui a me va benissimo però vorrei sapere la vostra opinione circa la serie quindi fatevi conto qui sotto cosa ne pensate se vi è piaciuta se non è piaciuta io vi abbraccio grazie a tutti tanto va tanto ma tanto bene e noi ci vediamo al prossimo weblog ciao a tutti